Ciao a tutti, terzo video dei video assaggi. Oggi assaggerò con voi il Nes Tee al Maracuja, con sempre tè verde Nes Tee al Maracuja. Come sempre mi sono armato di bicchiere, adesso lo apro e lo assaggiamo. Cominciamo con la prova olfatto. Allora, l'odore mi sa un po' di pesca molto dolce. Mi sembra l'odore di tè del discount. Vabbè, proviamo. Adesso lo verso. Anche questo ha il colore della pipì. Olè, una pipì molto chiara. Assaggiamo alla salute vostra. Ammazza. Qua si sente tanto il Maracuja, ma è dolcissimo. Colesterolo a mille. Troppo dolce, troppo dolce, mi spiace. Si sente il frutto tropical del Maracuja, però è troppo dolce per me. Un voto da 1 a 5? Direi 2. 2 perché è troppo dolce. È imbevibile. Dovrei berlo allungato con l'acqua perché veramente, ragazzi, è troppo dolce. Quindi il Nes Tee al Maracuja io non la provo perché è troppo dolce, troppo dolce. Non mi piace. Vuol dire che tutta la lattina me la berrò allungata con l'acqua perché veramente, ragazzi, non riesco a tenerlo in bocca questo qua. E niente. Grazie per aver visto questo video. Mi raccomando, continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e anche sul mio sito. E ci vediamo al prossimo video assaggio. Ciao!